ciao a tutti e Luca Viscardi breve prova di registrazione video in movimento in questo caso ovviamente siamo in bici non in auto siamo intorno a Milano come vedete zona via Novara spero che si possa sentire anche l'audio e prova video appunto in movimento con Alcatel One Touch Hydro Ultra come sempre troverete poi anche delle foto che vi permettono di valutare la capacità fotografica del dispositivo in questione essendo domenica possiamo anche permetterci di andare tranquillamente senza mani e si spera di non essere investiti e travolti direi quindi che per questa breve prova è tutto continuate a seguirci per tutti gli altri approfondimenti un saluto da Luca Viscardi